Salve, oggi parleremo della confessione, il sacramento della penitenza, che come vedremo è veramente la stanza nuziale dove lo sposo dice le cose più profonde, più dolci alla sua sposa, che è la Chiesa, che siamo noi. Vedi, battesimo, cresima, eucaristia, sono i sacramenti che fanno il cristiano, che gli danno la vita nuova, ma il cristiano in questo mondo non vive solo la vita nuova, si porta dietro la vita vecchia, allora è un combattimento difficile, spesso cadiamo, spesso abbiamo debolezze, spesso ci dobbiamo confrontare con sofferenze enormi, spesso pecchiamo, questa è la realtà. Allora il Signore ha pensato dei sacramenti di guarigione per rialzarci in piedi, farci riprendere il cammino, non come prima, meglio di prima, perché ogni volta che sperimentiamo la misericordia di Dio ci riprendiamo meglio, cresciamo un po' nella nostra vita. Allora questo sacramento nella forma attuale consiste in un dialogo, un dialogo riservato tra una persona e apparentemente un sacerdote che sta lì presente, che riceve attraverso questo dialogo la confessione, cioè il rimorso, il dispiacere, il pentimento dei peccati di una persona che desidera convertirsi. E questa persona si sente dire, che è importantissimo sentirselo dire, il perdono, e quando proprio non è possibile la benedizione e la rassicurazione sul perdono di Dio, no? È una meraviglia questo, veramente uno dei frutti più importanti della croce di Cristo. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Molti dicono, ma io non ho bisogno di confessarmi da un prete. Non è così, non è così. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica questa misericordia di Dio. Vedi, il fatto di pronunciare il peccato te ne separa dal peccato. Il fatto di sentire l'amore di Dio, sentirtelo dire, ti riconferma sulla fedeltà del Signore, sul suo amore. Noi non siamo esseri astratti, abbiamo bisogno di questo. E non è il prete. Il prete non è un intermediario, come molti pensano, è un sacramento. Cioè, vedi un prete, ma è Cristo in quel momento che ti accoglie e ti parla dell'amore del padre. Pensa anche a questo episodio del figlio al prodigo, quando torna dal padre. Quando era ancora lontano, tante volte nella confessione siamo confusi, non abbiamo ancora capito nulla. Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Questo è il perdono di Dio, senza riserve, molto più grande del nostro piccolo pentimento. Il figlio gli disse, padre ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il cristiano è figlio di Dio, il peccato ci rende indegni. Ma il padre disse ai servi, presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, il vestito della festa. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, la degnità filiale. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E ricomincia la festa, finalmente. Che meraviglia la confessione. Vedete, noi siamo in un mondo dove tanta gente, anch'io a volte, soffro per questa vita sdoppiata, perché ci dobbiamo sempre mostrare un po' diversi da come siamo, perché se mostriamo le nostre debolezze, tanto più i nostri peccati, rischiamo di essere disprezzati, emarginati, di essere, ecco, non così davanti al Signore. E che ci sia questo spazio, questo sacramento, segno efficace della grazia, in cui possiamo essere noi stessi, riconoscere la nostra miseria, e trovare la ricchezza che ci viene data gratuitamente del perdono di Dio. Questo è fondamentale per la nostra salute psicologica e spirituale, per tutto. Riscopri il sacramento della confessione e non te ne pentirai di sicuro di questo. Ti benedica il Signore e ti protegge. Grazie. Grazie.